all'azione che stiamo portando avanti, che è quella di ritornare con il sistema idrico integrato al Comune di Berceto, quindi una gestione fatta direttamente dal Comune. C'è stato un atto doveroso del Consiglio che ha preso atto degli accordi che sono sopraggiunti con Montagne 2000 e anche di coloro che vengono preposti alla gestione del sistema idrico, il geometra Pietro Zanzucchi e Paolo Del Piano. Quindi è stata una delibera che io considero molto importante, che ha rappresentato sei anni di lotta, di iniziative, compreso il referendum nel 2013, dove l'80% dei votanti si è dichiarato favorevole alla gestione dell'acqua da parte del Comune. Quest'operazione è importante perché io credo che l'acqua sia sempre un valore maggiore nei prossimi anni, perché il referendum implica che debba essere proprio dei cittadini, quindi nulla è più dei cittadini che le cose comunali e poi anche perché viene a soddisfare delle esigenze di bilancio perché finalmente i Bercetesi nella tariffa dell'acqua che dal primo gennaio di quest'anno la pagheranno al Comune di Berceto, troveranno una quota mutui, ma saranno i mutui del Comune di Berceto e non i mutui di tutti i Comuni, come è successo sino al 2015, tranne che quelle di Berceto, i mutui di Fornovo, di Varano, di Borgotaro, di tutti gli altri Comuni, quindi noi l'acqua la pagavamo tre volte di più danneggiando il nostro Comune.